Ciao a tutti da Federico di Seconda Vita. Il dialetto napoletano e la musica si incontrano per la prima volta all'inizio del Cinquecento, quando testi di carattere popolare sono adattati a musiche di estrazione colta. Questa nuova forma di canzone inizia a diffondersi con il nome di Villanella alla Napoletana, una composizione polifonica a tre o quattro voci che diventa oggetto dell'interesse dei maggiori compositori del tempo. Trecento anni dopo il felice incontro tra dialetto e musica riprende vigore, ma questa volta con caratteri inversi. Una musica più facile accompagna un testo dialettale raffinato, spesso frutto della genialità di autentici poeti. Secondo la dotta Enciclopedia di Ettore de Mura, è anche possibile datare, con un certo margine di certezza, l'anno di questo inizio, il 1839. Se sull'anno molti discutono, sul brano però sono tutti d'accordo nel considerare Tvoio Bene Assai come il simbolo del passaggio dalla canzone popolare alla canzone d'autore moderna. Ma a Tvoio Bene Assai viene attribuito un altro merito, quello di aver consacrato la festa locale di Piedigrotta trasformandola a Festival Nazionale. Così come per la canzone che rappresenta, anche l'origine della festa di Piedigrotta si perde nella notte dei tempi. Nella testimonianza del letterato e patriota napoletano Luigi Settembrini, ogni anno, l'8 di settembre, il popolo napoletano si recava presso la grotta di Posillipo e lì l'uno sfidava l'altro nel canto. La canzone aggiudicata più bella era la canzone dell'anno. L'indiscusso autore dei versi di Tvoio Bene Assai fu Raffaele Sacco, di mestiere Occhialaro, personaggio dell'epoca ricordato per le sue straordinarie capacità di estemporaneo verseggiatore. Su chi abbia musicato il brano ci sono invece diverse ipotesi. Scartata quella di Donizetti, la più plausibile è quella del maestro ed amico Campanella, sulle cui melodie Sacco era solito improvvisare versi. Il successo del brano fu travolgente, tanto che si arrivò anche a chiedere riposo per le orecchie. Nel 1841, a due anni dalla sua consacrazione, apparve un foglietto stampato per l'occasione dal titolo Sfogo di un galantuomo, stanco di udire la canzone Tvoio Bene Assai. La diffusione di questo brano porta anche in dote la riscoperta delle antiche canzoni napoletane fra le più celebri, come Michele Mà e Fenest Caluciva, la prima delle quali attribuita, con un falso d'autore, all'avventuroso personaggio di Salvatore Rosa, pittore, poeta, musicista ed attore seicentesco, che vestì anche la casacca di Pulcinella, e la cui vita sregolata destò scandalo al tempo. L'attribuzione postuma fu operata niente di meno che da Salvatore Di Giacomo, figura che più volte citeremo in questa storia, nel suo fascicolo Piedigrotta Forever del 1901. Molto del merito della diffusione di questa riscoperta va all'opera di editori come i Ginevrini Girard, che aprirono un negozio nella centrale via Toledo per vendervi la musica da loro stessi stampata, con la consulenza di Mercadante e Rossini. O come quella di Guglielmo Cottrò, che subentrò ad uno dei fratelli Girard. Figlio di un nobile francese, Cottrò ottiene la cittadinanza napoletana e dal 1825 si occupa della pubblicazione di una collana di passatempi musicali, che nei venti anni successivi avranno sei supplementi e diverse edizioni, raccogliendo più di cento canzoni, tra quelle di Anonimi arrangiate dagli stesso, quelle da lui scritte e quelle scritte da autori contemporanei, contribuendo in maniera determinante a preservare e a diffondere la canzone napoletana in tutta Europa. Il Demura attribuisce a Cottrò la paternità della musica di Fenest Caluscive e Fenest Vascia. Tra gli amici e collaboratori di Cottrò c'è l'abbate Giulio Genoio, a cui si deve l'adattamento in versi napoletani dell'originale testo siciliano di Fenest Caluscive, e soprattutto Gaetano Donizzetti, il di cui motivo, come bello quale incanto dalla Lucrezia Borgia, riecheggia in Santa Lucia, canzone scritta a soli 21 anni dal figlio di Guglielmo, Teodoro, su testo in dialetto del barone Michele Zezza. Santa Lucia avrà un successo mondiale con il riadattamento del testo in lingua ad opera del colonnello di Marina, ma altresì poeta, Enrico Kossovic. Ulteriore grande successo del poeta e letterato Teodoro sarà un'altra canzone in lingua, L'addio a Napoli del 1878, che se vogliamo lo identifica come il primo autore di canzoni italiane. I Cotro non sono naturalmente gli unici a raccogliere, scrivere e pubblicare vecchie e nuove canzoni. Altri grandi e piccoli editori li affiancano, come i Fratelli Fabricatore, che daranno alle stampe Locardio, detta anche Locardio Innamorato, nel 1849. O i Fratelli Clausetti, incisori della calcografia Ricordi di Milano. Nonché una miriade di piccole tipografie che d'improvviso inondano la città di Copielle, fogli sparsi stampati con i versi delle canzoni o con versi e musica. Uno di questi intraprendenti tipografi è Francesco Azzolino. Neanche a dirlo, il suo più grande successo sarà Te voglio bene assaie, di cui si arriveranno a stampare 180.000 copielle. Tornando a Piedigrotta, nel 1861 la sua tradizione Festaiola e Canora fu interrotta. Riprese nel 1876 e molti furono i suoi successi, tra cui Funiculi Funiculà, Espingole Frangese e O Sole Mio, quando ormai la manifestazione Canora sarà passata dalla grotta alle più importanti sale teatrali cittadine. Ma questa parte la racconteremo in un successivo episodio della storia della canzone italiana, raccolta in una nuova playlist. Se questo primo capitolo vi è piaciuto, potete lasciarmi un commento, un like o iscrivervi al canale, attivando anche la campanellina per ricevere notifica di pubblicazione di altri video. In un contributo separato, YouTube permettendo, affiancherò l'ascolto dei soli brani citati in questo video, contenuti nel primo degli LP della collana. Per questa prima puntata è tutto, ciao e grazie da Federico di Seconda Vita.